Ci sono storie che camminano da sole con un passo lungo, senza fatica forse per sempre. Tutte le conoscono e sono quelle storie che lasciano il segno e ti fanno versare anche una lacrima ma che ti restano nel cuore. Questo che vi ho letto è per l'incipit della straordinaria storia di Nunzio Bellino che dopo il comavente film sarà raccontato anche in un libro a fumetti intitolato per l'uomo elastico. Eccolo qua. E da raccontarci proprio di questo straordinario nuovo progetto abbiamo con noi proprio i protagonisti, gli ospiti. Nunzio Bellino, buongiorno Nunzio, come stai? Ben trovato a mattina live? Bene. E con te c'è Giuseppe Cosentino, rispettivamente regista del film e coautore del libro che è per l'appunto il nostro regista Salvatore Mondo ha rimandato già al nostro pubblico. Allora c'è innanzitutto il film, quindi dopo il film intitolato Elastic Heart, cuore elastico, la commovente storia del ragazzo dalla pelle elastica, amato tra l'altro Nunzio da grandi e piccini e per l'appunto film che ha riscosso tanta commozione nel pubblico, adesso c'è una storia a fumetti che racconta la tua storia, la storia del protagonista, l'uomo elastico. Allora, come nasce questa volontà di trasferire dal film ad un graphic novel la tua storia? Allora, è successo un fatto, allora sono andata in ospedale e la mia patologia è peggiorata, quindi da quella classica a quella vascolare. Allora ho voluto, vorrei lasciare un segno per questo libro, quindi ho voluto creare anche il libro e dare una graphic novel l'uomo elastico per dare l'incipietto, a far conoscere questa patologia a altre persone che dopo verranno dopo di me, questo alla fine ho voluto. Oggi come stai Nunzio? Bene, vado avanti con il sorriso sempre. Beh, grazie di essere qua per testimoniarci questa tua storia di grande coraggio, perché non è semplice, no, assolutamente non è semplice, anzi tante le difficoltà che hai incontrato nel tuo percorso, però noi oggi siamo qui per raccontarli ma soprattutto per regalare un motivo di speranza attraverso la tua storia, ma soprattutto è bello che ci siano persone che ti abbiano supportate e fra queste per l'appunto c'è il nostro Giuseppe che dopo aver sposato il progetto per la realizzazione del film, sposa anche il progetto del libro Fumetto l'uomo elastico. Sì, perché qui in verità invece del regista sono proprio lo sceneggiatore del fumetto, un fumetto che diventa uno strumento contro ogni forma di discriminazione e bullismo, contro l'indifferenza, contro l'ignoranza, perché qui Nunzio ripercorre la storia dopo il film, lui che diventa un attore e diventa un supereroe, che per i vicoli di Napoli diventa una sorta di Batman partenopeo e si schiera contro ogni soppruso, contro ogni tipo di violenza, di razzismo, perché poi si sa, bullismo e razzismo vanno di pari passo, sono figli di una subcultura, di ignoranza, di chiusura mentale, quindi io credo che è un libro a fumetti che vuole lanciare un messaggio universale, è una storia di rispetto e di inclusione. Parte dalla storia di Nunzio, però naturalmente è un messaggio di grande inclusione, tra l'altro proprio alla quarta di copertina del libro c'è proprio un grido di denuncia che voi formulate a tutti quanti, scrivete, segnalateci le cose che non vanno, i dubbi e le paure, i casi di bullismo, l'indifferenza delle istituzioni, le malefatte dei soliti furbi, l'uomo elastico arriva e denuncia attraverso i suoi fumetti. Beh, effettivamente è un grido d'allarme, ma al contempo permette di avvicinare quanti più persone subiscono molti casi di ingiustizia? Infatti, infatti sempre più persone, infatti contattano Nunzio, contattano spesso Nunzio sia persone con patologie rare, perché comunque vedono Nunzio che dopo l'ospitata da Eleonora Daniele a Storie Italiane è diventato un personaggio pubblico, un eroe antibullismo, il simbolo antibullismo in Italia, ma anche volendo nel mondo, perché comunque la storia ha girato il mondo, perché Nunzio è finito sui rotocalchi. È vero, è vero, Nunzio effettivamente questo testo nasce comunque da una profonda sofferenza personale, da questa patologia, da questa sindrome rara che addirittura colpisce una persona su mille, su milione, ed è una storia raccontata attraverso il film, attraverso il graphic novel, ed è una storia che però appunto, come diceva Giuseppe, ha oramai conosciuta dal mondo intero, nasce questa nuova figura del supereroe. Come ti senti da supereroe? C'è una grande responsabilità anche da parte tua? Sì, quello sì. Perché poi presumo che comunque il timore, le paure, quelle sofferenze le hai vissute tu in prima persona, riuscire ad allontanarle. Non è cosa semplice, non è cosa facile. Ogni volta ascoltare le storie di chi ha altrettante sofferenze è motivo di dolore per te? Torno un po' al mio passato, però io voglio dare forza a queste persone che mi contattano. Pure una ragazza mi ha contattato ultimamente, che stava sulla seggiorotella, quindi io mi asco un po' così. Però io la volevo aiutare. guarda, mangio un po' bene, stai attento a cose fai, non fare troppo ginastica, perché fare troppo ginastica alcune volte può far male. Nunzio, ma quando hai capito che nel tuo percorso di vita la tua missione era proprio quella di raccontarsi, quando hai trovato anche il coraggio di metterti totalmente a nudo, perché poi per raccontare le proprie sofferenze ci vuole il coraggio. Sì, dal coma, uscito dal coma ho visto la figura di Gesù e ho visto questa forza che dovevo fare qualcosa, non ancora era arrivato il mio termine. Quindi ho voluto portare questa parola avanti, anche se noi abbiamo sofferenze e cose, comunque Dio è con noi, ci vuole mostrare la via per essere felici, aiutare altre persone come me, oppure che hanno un tumore, da aiutarli. Beh, tanta sofferenza, complimentissimi, non è semplice svolgere questa missione quotidianamente, perché di lì al bar a tre passo è veramente molto breve, non è facile, tra l'altro... Io ho voluto anche creare l'asticmedianews.it, che io parlo delle persone che hanno le patologie di storie vere, quindi ho voluto creare questo sito di informazione. Molto seguito, tra l'altro. Sì, sì. Molto seguito. Riuscire a traslare dal film al graphic novel la storia di Nunzio è stata un'operazione, presumo, complicata, perché solitamente è al contrario, no? Nasce prima il libro e poi nasce il film, invece c'è l'audiovisivo, invece abbiamo invertito la tendenza a cui siamo abituati. Guarda, alla fine il fumetto è una sorta di spin-off di quello che è stato il film. L'altro molto carino, molto colorato. È disegnato da Tiziano Riverso, dal fumettista Tiziano Riverso, ed edito da Edizioni Antea. E guarda, è stato... È diretto, per immagini iconografiche, davvero un chiaro, diretto, colorato, quindi... Sì, che poi Tiziano è proprio bravo, fa questo da anni, è un professionista davvero bravo. È riuscito a trasmettere quello che io, avevo scritto nella sceneggiatura, in finale. Vedendo con l'austilio di Salvatore Mondo, il nostro regista, proprio una parte della graphic novel, che ci permette, ecco, già dalla... da così come sono fotografati, no? Disegnati i personaggi, quali possono essere le emozioni, no? Che si provano, la paura, il coraggio, il bullismo, no? Quello a cui in realtà siamo purtroppo troppo abituati ad ascoltare, dobbiamo però... Il cyberbullismo anche, che è diventato... Il cyberbullismo, esatto. Nunzio, c'è qualcosa... Sicuramente il libro vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sulle patologie rare e battere il bullismo, la discriminazione, per vivere un mondo pieno di inclusione, di uguaglianza ai diritti civili. C'è qualcosa che vogliamo dire al nostro pubblico prima di salutarci? Sì, attraverso... Magari attraverso qualche piccola frase, incipito... Questo attraverso il mio monologo, che... Ci salutiamo in questo modo, allora? Sì, sì. Quindi ascoltiamo questo monologo, tratto dal film? No, no, è tratto dal cortometraggio, un po' di Giuseppe Costinito, che ha creato questo monologo per... Per te, per te. Io, un cuore che ha sofferto tanto, la perdita di mia madre a soli dieci anni, che nonostante tutto non batte ancora e trova la forza per andare avanti. Ogni giorno la natura insegna solo alla diversità, può nascere un voglioso spettacolo della vita. Adesso vi faccio una magia. Io sono così. Io ho il cuore, il fegato, le mani, completamente elastiche, a caso di una rara sindrome, la sindrome Rehlers-Dallos. Per voi. È un problema? No, l'annunzio per noi non è un problema. Ci hai commosso con questo monologo. Riuscire a trovare la forza per reagire, tu gli sei vicino da tanto tempo oramai. Da tanto tempo. E quali sono quindi i vostri progetti? Sicuramente continuare a combattere questi fenomeni? Sì, assolutamente sì. Infatti, Elastic Art, anche ai David di Donatello, con altri due corti, che in pratica, uno è sulla violenza sulle donne, che so che tu sei proprio un attivista, e l'altro invece è un corto che denuncia l'abbandono sugli animali. Quindi siamo in concorso ai David di Donatello 2023. Beh, complimenti di in bocca al lupo. Torniamo a parlare di questi due corti, se vorrete, in trasmissione. Intanto complimentissimi, ancora grazie della tua testimonianza, Nunzio, e grazie del coraggio, ecco che paradossalmente tu regali a noi. Davvero. In bocca al lupo per tutto quello che per la tua vita. Va bene? Grazie a Nunzio Bellino e Giuseppe Cosentino oggi qui con noi per presentare appunto questo graphic novel, L'Uomo Elastico. E mi raccomando, seguiteli anche sui social. Noi ci ritroviamo fra pochissimo. Pubblicità, restate con Mattina Live. Grazie. 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 Grazie.